Salve ragazzi, noi siamo in Revenge, siamo una fazione che gioca su Anonymous, su Iglesias, su molti server Sì, server top Italia per creare un minimo di competitività e divertimento Adesso vogliamo farvi vedere la nostra testimonianza del secondo server su Minecraft Italia, quindi il secondo in Italia Il video seguente è stato a testimoniare infatti quanto un server secondo in Minecraft Italia Non si merita la sua posizione ma soprattutto gli admin quanto sono incompetenti e non possono gestire un server secondo in Italia Adesso vi lascio col video e vi saluto, ciao bella Oh non mi voglio sentire? Ok Ma dopo lo scivolo cosa c'è? Usual Oh grande questo, puro! Ma avete un po' che tirò le posizioni? No, sei arrivato da aerti Fammi idee, che sto, devo stare? Ecco Sto almeno 5 fuori, 4 Sto 5 fuori Mela boa, mela boa, mela boa E già, la seconda di non conoscere la prima mela boa 5, 4 Sto almeno non fai il poa, mettiti la mela boa, muoviti Mangiti la mela che ti esilino subito Sto almeno vedi la mela Sprite, come cazzo ti chiami? Oh! Che culo User left your channel Per fan armor? Ti rompe armor Eh, con asce, con asce Come mai ha rotto già l'armatura? Chi ha rotto chi? Kip, è già nell'armatura rotta Sto almeno, che ti ritorno? Tu come sei la che hai di sarmare l'armatura? Tu quello te lo dici, aspetta Eh, la mela giusta, so Eccolo 3, 2, 1... No, 1, 2, 1... Vabbè, fan, der! Tu dopo non lo scano che hackero E che facciamo due contro uno, guarda Uccidino zombie Uccidino zombie Zitto Povazzo Guarda come crema Zitto Povazzo Te zitto Ah la mia pova non ti fa più effetto Quando ne mangi tra 4 di cina Si ma a te c'hai 5 cuori Mi saccina un bellano Vieni qua bello Ti vedo con mezzo sorriso in mano mezzo a fondo di tequila al piano di vino Ti prendo la roba Per pagare non vi baste I grandi dei locali Storm aiutami aiutami che c'è la roba Pander prendi Pander Oh chitta metaccio Oh fai vedere il tuo kit Fai vedere il tuo kit No non ho puttacqua Oh arrivanatini Come cazzo In queste ferme immagini potete notare che Ehm Né io né Storm Vabbè Storm si può notare meno Comunque potete notare che Non ho installato nessun hack Ho solo X-ray e Optifine Come potete vedere dallo zoom E X-ray l'ho installata perché appunto Ehm è permessa nel server Insomma è permessa nel server E quindi l'ho installata perché C'è sennò sarei stato l'unico Scemo senza X-ray A giocare Svantaggiato Occhio occhio Oh che è uguale Wax C'è mandato una mela d'oro prima Occhio Oh mettiti armor Eh Tenetemi nel casino Mi preparo la porta che è morto anche questo Eh ma se anche quello io C'è non son pronto per il PvP eh Lo avrei lì Vecchia Oddio 9 quali Te ne ha più 5 Ma che cattola è la gente Oh sapete chi è dietro vuoi di quello lì che ho mai abbassato Mh mh Quando gli cittadini Sì quello che è rimasto nel kit Sì vabbè ma ti vamo perdeteli Oh c'era uno stack di Mielepowa NOL Io quello che si è usato Dopo dirgli grazie mi raccomanda Dirgli grazie sto Quella vita è una puttana Ho scritto numeri su tutti i cessi Vorrei vedervi morì Io non so Parato in fila Stai visto sul cazzo qua è la fila Somma dove stai? Mi son tirato da vedere da solo vai Io vado qua L'hai ucciso Non si colpì Oh madonna In questa breve pausa del video potete notare che l'admin era presente durante il PvP Quindi ehm Ha visto quello che succedeva Se tutto è normale Normal Con un preto mi non rende l'abuso sessuale Figli di puttana Maffa cristiana Brava Conta la grana Non vedo se l'occhio sgana Fuma l'angoscia mi sgana Un timonatto pensa a sé Il resto va da sé Perché è molto meglio non sapere Quindi ti dico che Va tutto bene Va tutto bene Se credi più Credo io Lo farei in un seme Ecco Senza soldi Senza fetti Senza chesa Senza volere un video personale C'è la mia mia Il combat Paola a mezzone in combat Dove siate? Guarda ma In quest'altra breve pausa potete notare quanto Questa Quest'altro pg Usak Potete vedere che Ha sprint attivo E durante il video si buggerà più volte Mentre cerca di scappare Potete vedere che è fermo Ha le particelle sotto i piedi Attenzione Attenzione Ce l'ho io Mirate le coordinate Stiamo sotto deserto No è sbagato ormai Vabbè ma il video di quando si è bugato ce l'ho Ce l'hai Ce l'ho più di ventessa Ce l'ho più di ventessa Guarda come si bugga perchè ha sprinto due Non si va nella Grazie Hai preso anche lui mi sa Te lo vorrei Me l'ho preso me stesso Combatte lui C'è il deserto o dove? Cazzo tiri le velocità a lui Io ti apro la lentezza Che cazzo? Che cazzo fa? Mannaggia Oh ma che cazzo fa? Ma sei scemo? Allora Ora po' Avete ruci coglioni voi e le vostre hack Ma quali hack? Ma sto registrando Allora Non ti preoccupare Ascoltami 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 Alle coordinate di X-Ray A Optifine Abbiamo tutto Ho messo il timer Ho messo il timer 15 secondi e 36 Si è tutta l'armur Mi dispiace C'è gente più forte di te al mondo Cosa ti devo dire? Ma non è possibile Bene questo è il video Potete capire da soli Che nessuno di noi hack Come ho già detto Si vede X-Ray Optifine Quindi non sono mod compatibili Comunque come dai fermi immagini Potete notare C'è l'admin che ci guarda C'è quest'altro player Che adesso non ricordo Nick L'ultimo che Che ho fatto il pvp Ehm Appunto che quest'ultimo C'è Ha hack Si notava O hack Oppure Tenta di buggarsi Tenta di buggarsi nella sabbia O cose del genere Ehm Cioè non abbiamo parole Ci siamo fatti i kit Facendo pvp Ehm Farmando Cioè Noi ci siamo fermati Cioè Ci siamo Kikkando Kikkandoci così Kikkandoci così Ci hanno proprio veramente Ci hanno fatto perdere tutto l'equip Tutto il kit E io non so veramente che dire Adesso se storm vuol dire qualcosa Io devo dire che Rimando da fare una idea Con un 790 così Coprendo i vip Comprendo chi ha pagato Coprendo chi gioca male Per Kikkare Bannare dal server Player che giocano onesti O player che comunque Giocano E Diventerebbero comunque I futuri Coloro che Donneranno nel server Per me un server Non può andare avanti così Di sicuro no Magari adesso c'è una bella posizione C'è tanti player online Sicuramente non può andare avanti Secondo in Minecraft Italia O permette troppi favori Votando sulla top Italia Ma un server così non vive E si vedrà top Quali sono i veri server Che non sono in top Ma comunque hanno La loro bella visibilità La loro bella Stima Fama E giocatori attivi A parte di server buoni Comunque possiamo notare che Dal Dalla lista di Minecraft Italia Si notano i server che sono stati in top Per mesi e mesi Possiamo notare il server Che dopo Un giorno che stanno nella lista Si ritrovano Primi C'è qualcosa sotto Centinale, 200%, 500 voti C'è qualcosa sotto Ma che schifo Questo non è per Minecraft Questo qui è Questo è diventato MoneyCraft No Questo è diventato Il governo italiano Questo è diventato Stai ziti Mi tocca anche tagliare Hai diventato il discorso Stai ziti Stai ziti No no L'ho tagliato Quindi C'è I server non possono andare avanti così Che cacchio Se è drago La frase Oh ma ci stai ziti Povazzo Ma ti do il guard della call Ok I server non possono andare avanti così Uno Soprattutto un server Secondo di Minecraft Italia C'è posso capire un server ultimo Che nessuno lo caga Ma sicuramente un server Secondo di Minecraft Italia Non si merita Né di stare lassù Né sicuramente Che schifo Se andate su TeamSpeak A vedere I file Uploadati I report Degli altri player Abbiamo Tutti quanti Fatti con la king che attiva Oh ma che roba è E non li bannano Non li bannano E bannano quelli che vengono segnalati Ma che roba Quelli che giocano lealmente Cioè Ma indovinate chi è Chi erano quelli che Hanno fatto i report Con la king che attiva Guarda caso Ti quanti VIP Poi la regola per i VIP Qual è Se sei VIP Ti mando tre warn Se fai hack Insulti Bestemmie E dopo il test E dopo il test Ti levo il VIP E dopo successivi warn Ti faccio bannare O noi invece che ne avevamo Play tranquilli Alla minima cavolata Che non ce ne è anche stata Bannati sul momento Soprattutto ci hanno All'inizio ci hanno chiccati Poi dopo Successivamente In una parte che non ho registrato Ci hanno bannati Senza nessun tipo di controllo E ci hanno accusati di hack Cose veramente Dell'altro mondo Come nel video Erano nettamente invisibili Cioè non esistevano Voi vi lascio Non lo so Commentate Fate quello che volete Ditemi Non lo so Come la pensate voi Beh io vi ringrazio Per la visione Per avermi ascoltato E ci sentiamo Al prossimo video Spero che non iniziamo Un video così Bella Bella a tutti